figa per un cazzo comunque buonasera miglia bro come sei negativo come sei negativo oggi oggi mi sono oggi ho passato tutto il pomeriggio a studiarmi e comparto audio a michele poi mi spieghi dopo la live mi spieghi però dopo la live mi spieghi tutto cos'è che ti turba il nostro grince il nostro grince poi che ha ricordatevi che fra un po il compleanno di alvin è il 14 maggio mi raccomando il nostro grince bello al vita il mio amico alvin fa anche riva adesso il nome di un film di un cartone animato va bene allora dove eravamo arrivati non ricordo più allora che ho finito l'emulizione del pompa ciò questi quattro colpi prende non c'è un cazzo bene 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 fa vedere qua dentro cosa c'è c'è una ceppa vabbè andiamo a ammazzare un po di zumbie andiamo a ammazzare un po di zumbie ma sta laggando no sta laggando vabbè vabbè brutti luridi sto arrivando andiamo dopo qua apriamo accesso consentito solo al personale autorizzato accesso candidato per i visitatori personale autorizzato allora questi qua mi servono per dopo però comunque mi dà un po di scatti che cazzo è i nostri menù vengono incontro alle vostre esigenze grazie alle più avanzate tecnologie provate i nostri piatti ideali per una sana limitazione calibro 45 combina eh due colpi lagghi gli ha dati vero? beh chissà perché magari c'è sotto della roba raga non lo so magari stavo giocando qualche altro gioco l'ho lasciato aperto adesso però mi sembra che stia andando bene che belli che sono ciao bro e scappa di sto cazzo di cervello questo ce l'ha qualche pezzo addosso no il pompa e il pompa e il pompa oh dov'è? regolatore lancia fiamme quindi questo dobbiamo mettere giù una ceppa oh mi manca il pezzo credo oh no non mi ricordo più oh no mi mancava proprio il pezzo da mettere dentro credo chip elettronico questo mi tornerà utile eh lo so lo so sorellina che ti torna utile ma io di questo qua per terra non mi fido molto così eh vedi che è un figlio di buttanazza ciao a te per te ti uso questo no cazzo uso questa ecco per te uso questo ah non va il chip questo non è buono allora di là non mi ricordo no di là ci volevo un'altra cosa per salire ma per passare di qua come si doveva fare? questa è una polverita a spallo bella giù ma non potevo passare di qua no? così? mi ricordo più sto pezzo questo pezzo è un po' un po' così qua c'era il chip questo stronzo ma poi non si poteva fare qualcosa una volta no? non posso far niente mi manca mi manca il pezzo oh bella delle 50 grazie grazie vabbè di qua non potevo passare che vita di merda è se passiamo di qua allora ma scusa adesso non c'è una scala qua per salire scusa non c'è una scala qua per salire e come passo io dall'altra parte? come ci passo di qua? non c'era un'altra strada? possibile non mi ricordo più raga non c'era un'altra strada per passare ah guarda vaffanculo non mi ricordavo più che vita di merda eh non mi ricordavo più non mi ricordavo più eh mi raga non è che mi posso oh guarda sti faccia di merda merda te sei oltre ad essere stronza guarda ok io qua c'avevo qualcosa sai che non me lo ricordo? che avevo preso tutto o meno ma credo di no vedi c'ho la granata quella la possiamo lasciare lì hai visto? tu continui a avermi dietro qua se andava su qua non c'era nient'altro mi ricordavo che c'era qualcosa in più in questa stanza ma vabbè adesso mi sto sbagliando tutto zuppicante lui d'accordo d'accordo siamo fatti mordere come dei peones però il direttore Cartwright l'adesita però va bene allora questo qua era per il lanciafiamme quindi depositiamo quando potremmo usare il lanciafiamme lo usiamo rullino non c'ho altro cazzate piante questo ok va bene non è che ci abbia molto a dire la verità mappa del laboratorio area nord ok non c'ho molta roba raga non c'ho molta roba sono forze speciali allora il bersaglio muoverse la roba era recuperato un virus occhi aperti per il bersaglio sta per aprire la cassaforte attendo il segnale modulatore di frequenza questa è la prima modulatura modulatore allora possiamo andare giù di qua credo là non c'era un modulatore mi pare di sì poi urlano capito urlano fortissimo allora modulatore dove l'abbiamo messo questo giusto usa mancava qualcosa come cazzo era com'è che si spostava come con la e cos'era cos'era non me lo ricordo più bello sto schema cosa non me lo ricordo più come funzionava cioè dovevamo fare le metterle a a pari vero sentirei iiii 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 fa troppo casino questo cos'è un OSS giusto quindi lo uso ma non era questo ok error quindi devo far combaciare le OSS se non mi ricordo male adesso magari mi ricordo male quindi OSS no non era così come cazzo era non era giusto così non era giusto così raga perché non me lo tiene perché non è giusto eh così erano ah dovono essere perfette così è perfetto così è perfetto vedi ah dio santo sangue dappertutto cosa sta uccidendo sono morso sono tutti morti sono stati quegli uomini dell'USS le forze speciali del quartiere generale ma perché non dovevano proteggere ci sono cervelle sangue dappertutto ditemi che questo è un incubo dio santo perché non diciamo tutti che sono un genio un genio come me non può morire in un posto come questo ho sempre tenuto ottimi risultati mi hanno fregato ah ma sarò io a fregare loro vincerò il nobel sono un eroe un genio un dio non morirò vabbè è un momento di defiance io salverei c'era il salvataggio quasi giusto per non rifarci sto pezzo del cazzo c'è sta roba braccia identificativa e questo lo sappiamo già andiamo prima no andiamo prima cazzo andiamo di qua prima accesso al ponte riservato al personale dirigente gnie 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 un colpo un po' mi ruga per un colpo di senti va per non sapere ne ce ne scrivo visto che è una zona nuova entriamo col pompa la piantina mi sa che ce la usiamo subito questa è la polvere da sparo normale cosa facevo con quella grande raddoppia quindi raddoppia quello delle pistole aspetto un attimino per questa ma non ce ne avevo altre vero da sparo non credo allora io entro di qua di qua che cosa c'è di bello non mi piace ok mi piace il braccialetto cos'è successo qui accesso al computer riservato al personale dirigente gnie 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 allora la polvere bianca ok ok questi bastardi si devono bruciare guarda qua bisogna avere il liquido se non erro vaporizzazione in corso ok il contenitore l'abbiamo recuperato questo che cos'era ah questo era il codice fia questo era un altro bagno di sangue vabbè poi lo vediamo effettivamente dà degli scattini del cazzo secondo me l'ho lasciato aperto qualcosa sotto poi c'è la troia ok questo facevo i colpi ok vabbè fin quando non troviamo nient'altro di bello la granata ok questo era il codice non mi ricordo se serviva per aprire per aprire questo qua questa botola che c'è qua cazzo difficile questa allora mi fanno screenshot allora duelle due punti cazzi smazzi vediamo se me la ricordo non credo era questo se non erro giusto così 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 l'altra cos'era questa no non era così cazzo fammi tornare la buttano adesso mi faccio la pot no 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 figa se sei uno scemo ma perché non gliel'hai tirata in faccia allora due punti l'ultimo le due stanghette è una specie ok l'ultimo le due stanghette l'ultimo è questa figa ma l'altra me la sono già dimenticata schifo ultima le due linee era così ok perfetto grazie 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 anche albin che me l'ha scritto io queste cose qua raga non me le ricorderò mai oggi faccio la foto non me le ricordo ciao leonora cazzo andiamo di qua di qua oh quanti bei colpi quanti bei colpi mappa del laboratorio quanti bei colpi ho preso non so se mi serviranno però dietro della 9 mm quindi quella che ho in mano no è l'altra ok allora dopo facciamo uno switch appena possiamo ma devo attivare la corrente qua non mi piace dopo questo che cos'è un urf va bene vediamo l'urf un urf troppo tranquillo troppo troppo tranquillo troppo tranquillo oh guarda qua cacciami le munizioni del pompa mettiamo il posto del coltello munizioni del pompa servono sempre ragazzi sempre sempre bestie cosa cazzo combustibile per cenchia qua mi serve ah guarda che bello allora facciamo sistemiamoci un po' sistemiamoci un po' queste me le tengo questa la posso depositare questa mi serve questa deposita questa deposita questa deposita questa aspettiamo un attimo e ci prendiamo ci prendiamo ci prendiamo il lanciafiamme prendi perché quelle bestie schifose se non vado errato le ammazzi solo con il lanciafiamme poi ci pigliamo matilda ce la siamo già presa matilda che cazzo è matilda è matilda eccola qua matilda prendi oh che vitaccia è dura la vita parca troia allora aspetta un attimino mettiamo giù ok perfetto giù giù allora questa combiniamo con lei ok pompa matilda lanciafiamme abbiamo tutto abbiamo quello che ci serve si ok perfetto ok perfetto pompa ce l'abbiamo quindi siamo a posto giusto due slot liberi e abbiamo tutto il resto ok facciamo un bel salvataggio veloce veloce no questo adesso non lo prendo ma c'era la piantina che però poteva servirmi insieme a che mi mordono cos'è stai stai lì stai tranquillo ma che di merda di merda ci guardate che pezzi di infami e questo e questo me lo tengo il trofeo ah il codice se lo trovi dimmelo siamo venuti per guardare aspettando te lo dico vabbè queste sono cazzate stiamo sotto a casa ci sono state come una l'area è isolata non possiamo attivare i punti dei nostri braccialetti la pianta 43 è fuori controllo la sera è un inferno dobbiamo mandarci qualcuno prima di essere troppo tardi come fermiamo questo macello devi aiutarci vabbè queste sono cazzate vabbè andiamo avanti vabbè ma se ci metto questo ci metto dentro qualcosa mi mancheranno degli ingredienti immagino quindi qua ci devo tornare dopo però adesso che ci penso volevo qualche munizione in più del pompa certo certo che uno gli spara in testa a questi qua non muoiono mai porca troia è incredibile come non muoiono ci credo non ci credo vabbè solo per questo devi morire cazzo che vita del cazzo combina non potevo combinarli con questi questi cosa sono calibro calibro 45 nota di qualcuno sono tutti mutati sono in tanti delle piante continuano a tornare ancora ancora bruciamoli tutti bruciamoli finché copri diventano cener non c'è altro modo vabbè qua non si capisce che cosa c'è da fare quindi ancora non lo facciamo ah guarda che giro ho fatto non male vabbè fammi salvare poi torno indietro salvato mamma mia che sterataccia quella non me l'aspettavo del tipo proprio non me l'aspettavo qua mica 2000 miscele uguali me ne porta dietro una questa depositiamo questa la teniamo 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 e devo fare devo fare questa giusto credo di sì quindi dobbiamo tornare nella sala e usarla nel nel computerone vai di qua torno indietro no ma questi non muoci cioè essendo una partita plaz io li ammazzo continuerò a rinascere accesso al computer riservato al personale dirigente merda che cosi luride ok allora proviamo questo esamina il codice figa due L stanghetta i due quadrati i due punti due L stanghetta i due quadrati i due punti no aspetta le due L la stanga il quadratto il rettangolo e i due punti ah no vediamo figa già me lo sono dimenticato figa me lo sono già dimenticato ma posso ma veramente ah una stanghetta due L stanghetta ok le due L una stanghetta non era così ancora veramente ah guarda le due L fatte così la stanghetta ok che cazzo ho sbagliato ah questa cos'è che mi ha aperto la green house allora l'erbicino voglio dire che una volta la macchinetta aggiunge la continuità ok raffreddare immediatamente ok qua avevamo preso tutto nel frattempo vediamo ok adesso c'è la soluzione in base alla capacità del contenitore adesso c'è da ridere ah più di così non fa sto andando veramente a casa raga troppi rompiccapi eh per noi jumpy boy ok così così non va bene no un po' troppo credo che vita di merda eh ok dopo che ho fatto sta roba qua e quindi così è poca così è poca delle varie quantità immagino no via ma possono farmi fare queste cose a me io non so neanche come mi chiamo no allora facciamo questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua riempiamo questo questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua e qua e non va bene ci deve ci deve guarda bene gli stantu eh le guard le guard mi viene caldo le guardo bene gli stantuffi le guardo eh guardo tutti gli stantuffi io bro tutti quanti io stantuffo e guardo lo stantuffo mentre stantuffo che cazzo con calma allora annulla annulliamo rifacciamo allora abbiamo detto che deve arrivare là e devo guardare lo stantuffo allora questa è troppo è troppo cicciotta però a me piace quindi possiamo fare così eh ma figa ma è tanta questa qua dentro che cazzo eh vedi è tanta questa quindi se io faccio qua e questa qua la svuoto così e questa se riempie di cos'ha dovrei farla stantuffati eh ci vorrà un po' raga ci vorrà un po' ci vorrà un po' eh no non fa bene così e noi devi che ci giriamo intorno così non va bene questa è troppa questa è troppa per farla stare dentro qua sono una due tre quattro tacche ma in teoria ci dovrebbe stare ma perché eh no perché esce di tanto così quindi se io travaso tutto dentro qua ho sbagliato poi questo lo porto di qua e travaso tutto dentro qua ciao ciao Jonathan eh ma è troppo come cazzo si fa eh no è troppo non è troppo un po' le dobbiamo lasciare dentro mai finire tutto ok abbiamo fatto anche la soluzione finale qua vabbè usciamo ma vai fai il culo vai guarda quello se di qua c'ero già andato di qua abbiamo lasciato qualcosa se non erro che ho detto non la porto il coltello e basta c'era solo il coltello da portare no c'era anche qualcos'altro lo vede no mi sa che c'era solo il coltello quello si muove ancora ma vabbè che cazzo ce ne frega ok qua c'erano gli uffici procedura raffreddamento in corso bravo bravo raffredda raffreddamento completato ok possiamo uscire tranquilli so perché i morti per terra mi fanno c'è sempre un po' paura a passarci di fianco sto cazzo di cosa ancora vivo sa che le piante muoiono va baffanculo non c'è avevo niente da prendere questo non mi ricordo se lo facevo funzionare in qualche maniera o meno smettiamo di rompere le palle ok detto questo vizio che non voglio rifare sempre questo pezzo non avrei per caso paura che si risvegliano no no non è che c'ho paura di risveglio è quelli sdraiati per terra mi danno un po' fastidio mi danno fastidio perché non so mai se si alzano o che cosa di qua sai che io ho la vaga impressione di aver lasciato qualcosa in giro ma non mi ricordo che cosa ho questa piccola impressione vale ma bruciate brutti i bastardi dai fammi passare usa vaporizzazione in corso bravo bravo acrom ha funzionato ecco adesso ci saranno 2000 di questi bastardi in giro soluzione soluzione pericolosa dispersa senza autorizzazione siete stati monitorati e sarete soggetti a misure di disciplinare merda porco il clero e testi io devo morire perché sei un bastardo vedi te se io devo morire perché sei un bastardo maledetto ci faccio un cazzo con questo bravo no 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 va per terra va per terra lui lui va per terra lo stesso con i corpi se lo prendi in faccia si inginocchia e ti fa passare notalo notalo bro cioè non muore non muore però vado in ginocchio e ho capito ma se devo passare sorella mia le qualche maglia devo passare guarda questo si ha funzionato che bello come ha funzionato attenzione soluzione pericolosa dispersa senza autorizzazione siete stati monitorati e sarete soggetti a misure disciplinari devo riuscire a passare in qualche maniera attenzione accesso al computer riservato al personale e dirigente inoltre oggi mi trovano le informazioni sul giro e le quartiere quei corretti bianchi non hanno contributo al progetto ah niente non mi serve un cazzo sta rama vaffanculo fammi salvare va anche perché non ho più niente per curarmi credo eh mi che cazzo faccio adesso senza cuore no buono no buono vediamo vediamo come ce la caviamo qua nell'area ovest videocassetta e laboratorio cosa cazzo è questo granata devo mettere giù un po' di roba vabbè mi serve il ragazzo io avs avs aspetta avs ne trovi verosimili no sono un po' legno sono leggermente ma non tanto leggermente legnosi scusa io arrivo da qua giusto là così non si può salvare sto postaccio posta di william ok si dimostra il suo incarico vabbè queste tutte robe di informazione secondaria l'hai chiamato l'hai chiamato a rispondere l'hai chiamato a rispondere l'hai chiamato a rispondere ok bella luigi benvenuto che non io questo ce la portiamo trovare qualche colpo non sarebbe poi così male così tremendo va bene vediamo se riusciamo a fare qualcosa mannaggia la madonna qualcosa c'è di bello ok abbiamo questa abbiamo il salvataggio abbiamo l'altra pianta di cui non ce ne facciamo assolutamente nulla questa questa potrebbe venirci utile vedi il pompa c'è sempre sì la prima persona sì sì anche secondo me è così allora questa la mettiamo giù mettiamo 655 piante ma vabbè deposita deposita questa questa non mi serve più deposita questo c'ho due colpi c'è una roba per vedere videocassette in giro poi non c'era brava e che facciamo depositiamo anche questo questa è la autopsia del soggetto 449 tuttavia le videocoscienze deteriorate non è stata possibile perseguire abbiamo dunque presciuto lo smaltimento del soggetto inserito in un gruppo di tre soggetti due ore e 36 minuti i soggetti c'è tu non hanno impiantato un embrione sono smaltiti durante l'esperimento uno del soggetto si ha perso il controllo si è tolto la vita ok ok beh è facile cosa che posso tornare da torniamo da ho salvato non mi ricordo non mi ricordo se ho salvato raga salvo perché non si sa mai torniamo da ah da di travi umani che diavolo succede perdonami William non mi hai dato altra scelta lo hai chiamato William perché perché è finita così è soltanto colpa della Umbrella sei una di loro e non sei coinvolta in tutto questo sì ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere allora raccontami fin dall'inizio ciao Matteo lo avrete così facilmente beh anche lui stava morendo povero Cristo tu hai creato questo mostro abbiamo creato il virus ma non immaginavamo non trovare scuse in un sei tu oh 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 il problema è che non ho colpi ok finiamola oh oh fammi passare sorella oh queste cose scoppiavano però non mi ricordo più oh 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 c'erano ah eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua comunque credo di non farcela almeno subito no tu sei un figlio no cazzo è successo no ma stai scherzando che cazzo è successo che cazzo è successo vabbè così 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 dai che sei un cazzo di mzifuso ma questi come se non mi ricordo se scoppiavano sti cosi dai dimmi che trovi un altro dai non c'ho niente ad ok no finiti i colpi cristo eh no non ce l'ho fatta assolutamente dai micchia avevo capito un attimo ma non si scoprino quegli affari verdi? cazzo scusa fammi vedere quanti colpi ho 29 devo fare una roba perché giù prendo altri colpi finisco i colpi per cui credo credo che mi prenderò tutte le pistole prendi questo è un calibro 45 prendi non c'ho non c'ho roba però mamma mia eh non c'ho molta roba come cazzo è non mi devo far colpire c'ho una sola cura al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione attenzione rilevata emozione non autorizzata di un virus di livello 4 avvio isolamento è che non c'ho cura non c'ho né cura né colpi a dire la verità non si può assaltare assalta sì rilevata di un virus di livello 4 la coraggio è venuta o meno all'inizio di un virus di livello 4 attenzione rilevata inizio per noi attenzione di un virus di livello 4 all'interno lega avviata la sequenza di autodistruzione attenzione rilevata inizio dell'attività di un virus di livello 4 non credo di farcela non lo so come lo farò dai ma va tenata un culo ma io c'ho il coltello in mano ma vaffanculo scarta un po' e mi ci faccio non molto nient'altro qua e non trovo una posizione con le altre cure non lo so non lo so non lo so dai non mi fa neanche saltare devo trovare un modo perché c'ho solo una cura no non voglio continua devo trovare un modo perché non c'ho cure porca troia come cazzo faccio fammi vedere non c'è niente qua c'è un cazzo di un virus di livello 4 avvio isolamento struttura alter allora fammi vedere fammi vedere cosa posso fare ah riduci i danni subiti ok riduci i danni subiti deposita questo possiamo anche depositarlo che non mi frega un cazzo il pompa lo teniamo riduci i danni subiti non so per quanto possa aiutarmi sta roba qua no è un po' un po' rogna cazzo porogna ecco la I coglioni da un'altra parte 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 Minaccia neutralizzata Isolamento terminato È stata dura senza cure questa E fa un male cane I coglioni da un'altra parte I coglioni da un'altra parte I coglioni da un'altra parte Stavo giusto pensando a un'altra parte Bella, bella Zorin O ti farai male Sparami allora, se ne sei capace. Nessuno avrà mai il campione. Non resisti, posso farcela. Lasciami. Non me lo merito. Non farlo. Buona fortuna, Leon. Noooo! Noooo! Sì sì, ci sta, dai, ci sta il gioco, ci sta la grande. E' già aperto. Sì sì, si tolgono, si tolgono. Sei tu che decidi se metterli o meno i sottotitoli. Cazzo, potevo prendere che coglione. Vediamo se c'è un cazzo di roba, me lo cambi subito le armi. Seguenza di autodistruzione è avviata. Nove minuti alla detonazione. Chi è? Claire! Eh? Liam! Sei qui anche tu? Sì, ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene. In fretta. Lo so, c'è una via di fuga. Possiamo farcela. Dove ti trovi? Claire! Ci sei ancora? Leon! Ehi Leon! Non aspettarmi! Mettetri in salto! Merda! 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 Da cazzo è il coltello. Ok, allora prima salvo. E poi cambio le armi. Dov'è? Prendi. Deposita, prendi. Non ciò altro? Grazie a tutti. Ma va che affare il culo? Adesso me lo prendo. Ah, ma sono morto? Minchia, ma che roboso. Minchia, ma che roboso. Ma serio? Con un colpo mi fa? Non mi ricordo se le prendo queste cose. Vabbè, comunque questa non mi serve. Deposita, questa non mi serve. Deposita. Una la tengo. Ehm, basta. What the fuck? What the fuck? bello bello metro metro tanta roba bro è tutto il mio rispetto giocalo che ne vale la pena che meno gioia ok ah 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 devo sbrigarmi da che parte qua c'è un altro salvatore aspetta no aspetta questa la metto qua questa combina con questo ok questa è una bobina cosa cazzo è oggetto connettore elettrico ci sembra attivare qualcosa nel nest ok c'è un salvataggio qua no combina è avviata utilizzate immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore è avviata che Eh vabbè capito, proprio su lì deve cadere Va a battere Va i affanculo Alla, detonazione Oh, oh, oh Oh, oh Grazie a tutti. Non è vero, comunque non è vero. Quanto odio, proprio qua c'è l'odio profondo. Cazzo ci faccio, non c'è niente. Che brutta vita. Che diavola. Dai calmo. Ma non è vero, ma dove cazzo... Dì, ci incazza, dì. Sette. Alla, detonazione. Guarda. 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 Quanto cazzo sei un lurido bastardo? E beh, di curioso non c'era sto cazzo di roba davanti Quanto cazzo sei un lurido bastardo? Non cazzo sei un lurido bastardo? Quanto cazzo sei un lurido bastardo? Ma dai! Ma vai a ammazzarti da qualche parte Non cazzo sei un lurido bastardo? Eh sì, mi viene da scacciacare Anche l'ultimo colpo Lancia missili No, 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 no Senti la musica Il bucale Questa è una scacciacane Brutto bastardo, indegno Lecca Nutella Siete arrivati al livello inferiore Eh, sarebbe anche ora, cazzo Merda Devo dar, merda iscriviti al livello inferiore louder Quadro Incredibile, mi manca. E usciamo con la metropolitana. E lei senza un graffio, non è da notare, eh? Lei è Sherry. Ciao. Cristo. Cos'è stato? Non lo so. Vado io. Tu vada a Sherry. Ok. Ok. 16 colpi, nulla, nulla, nulla. Abbiamo proprio finito tutto, eh? Guarda qua. Facciamo così. Bene. Ma non posso cambiarne equipaggio. Ciao, va. Fammi salvare un secondo, va, prima che dobbiamo rifarci tutto il pezzo. Che cazzo ho depositato? Anche l'altro ho depositato. Dov'è l'altro? Non c'è? Vabbè. Teniamoci sta roba qua. Tre coltelli. Vai. Vai. Non puoi proprio morire. Oh, perché non me lo equipaggio a questo? Eh? Eh? Ti ha te il piombo? Serviti pure. Avanti! Ne vuoi ancora? Da cazzo li devo fare a questo? Ma non c'è più niente. Ah, ma c'è... Dall'occhio un mezzo, il cazzo l'aveva visto. C'ha gli occhietti e l'occhio grande e l'occhio piccolo. Ah, una macchina scrive? Cos'hanno le domande di quando uno? Cosa cazzo sto scrivendo, Giorno? Mica capisco quello di scrivere. Non la voglio sta mia rassistita di merda. Non so già tutto. Dove sono gli occhietti? Vuoi proprio morire? Vuoi proprio morire? Mi piace il piombo? Mi sa, vetti pure. Gira fuori gli occhietti, dai! Avanti! Ne vuoi ancora? Dai, veramente! Leon! Doviamo sganciare la carrozza! Ah! 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 Vabbè! No, peggiora tanto Si è stretto l'occhietto Gli si è stretto l'occhietto, capito? Forse lui può darci un passaggio E se si fosse diffuso? Resta con Sherry Vieni GG Comunque con gli ultimi colpi, eh Noi ci siamo Ad ogni costo Già, io sono con Talion Finché siamo uniti Andrà bene Forza Ehi Perché non mi adottate? Adottarti Prenderemo un cucciolo Un cucciolo E un pappagallo Pappagallo? Bene Ho sempre voluto un animale Ma mamma era contraria Ok Il prossimo brano di oggi Tutto quanto, Pietro Non avevo più colpi Neanche neanche C'hanno solo tre coltelli Ciao Giuseppe No, non ci gioco più a COD Giuseppe In quanto non cambiano un po' di cose Ci giocherò un po' con la nuova stagione Quando dovrebbe uscire a breve Ma non più come prima Va bene Va bene 36 salvataggi Anche, no Ma ancora ci sono i DLC Già Ancora ci sono i DLC Da fare Il 21 Alle 21 Bella scelta Deja vu Deja vu Capito Allora Cosa cazzo è modalità extra Quanto sono vissuto In fuga Cos'è sta roba qua? Miglior tempo Gioca lo scenario La vita continua Ma Questi sono Che cazzo è sta roba qua? Vai Questo lo facciamo la prossima volta Questi qua sono i DLC Alvin Sono tutti i DLC Questi Dai le proviamo Allora Proviamo i DLC Cambio un paio di informazioni Della live E ci sono Raga Datemi un secondo Allora 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 bella mi aspettate un attimo che arrivo subito vado a prendermi un po d'acqua fresca arrivo a prendermi un po d'acqua fresca arrivo subito eccomi scusate sì sono questi sono questi facciamo non so il quarto sopravvissuto iniziamo da questo vediamoli alfa bello il punto k 12 richiedo informazioni sulle frazioni nessuno può fare fuori mister mondo il punto di estrazione rilassati mister mi dirigo il cancello principale mica brutta mossa questa ma io ce la roba ok c'è sta roba qua non c'è nient'altro solo questo figa sono faccio parte delle squadre speciali ma c'è un serio ma sul serio ma sul serio canne di merda guardate se mi devo fare morire eh saluta c'è niente ah qua c'è salvataggio ah non c'è salvataggio ma è un survival questo è un survival questo ho approcciato male ho approcciato male oh guarda questi no c'è ah no Dove cazzo devo andare? Non è che sono dalla parte giusta Era per l'occhetto 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 Peccato Era per l'occhetto 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 Che cazzo Era per l'occhetto 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 Se lo sapevo Era per l'occhetto Era per l'occhetto Cambio 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 Era per l'occhetto 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 Era per l'occhetto